Nuova informativa di Confeser Centivallo di Diano guidato dalla Presidente Maria Antonietta Quini in merito all'avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella promozione dell'efficientamento e risparmio energetico. Possono accedere alle agevolazioni previste dal bando le grandi imprese e le piccole e medie imprese con sede in campagna. La dotazione finanziaria dell'avviso ammonta complessivamente a 50 milioni di euro. Gli interventi finanziabili devono afferire ad una delle linee di intervento previste dall'avviso. La linea A è relativa all'efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture delle imprese. La linea B ha gli impianti per la produzione di energia proveniente da FER delle imprese. Gli aiuti, spiega Confeser Centivallo di Diano, sono concessi alle imprese nella forma di contributi in conto capitale. Gli investimenti devono prevedere un programma di spesa ammissibile di importo non inferiore a 150 mila euro e non superiore ai 2 milioni di euro e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, comunque piena la revoca, non oltre 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione ed avere una durata a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione non superiore ai 18 mesi. Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma dal 13 febbraio al 13 aprile 2023. Lo sportello Confeser Centivallo di Diano offre assistenza e supporto per lo studio di fattibilità, per la predisposizione del progetto, per l'iter amministrativo, il monitoraggio e la rendicontazione. Oltre alla sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, lo sportello è raggiungibile anche attraverso l'email vallodidiano-impresalcentro.it, al numero telefonico 0975 52 72 77 o attraverso il sito internet www.impresalcentro.it.